Di una cosa sola c'è bisogno, di cosa? Don Alessandro Paolino, neoassistente diocesano ACR. L'ACR ricordiamo è l'Associazione Cattolica Ragazzi. Don Alessandro a te il microfono. Sì, io ho ricevuto questa nomina da parte del Vescovo come assistente diocesano di ACR, l'ACR è l'Azione Cattolica Ragazzi, quindi uno specifico settore dell'Azione Cattolica che questa associazione che nella Chiesa si pone accanto alla Chiesa, accanto anche alla gerarchia e al popolo di Dio come ulteriore servizio alla comunità credente. Per me è un'esperienza nuova, quindi è tutto nuovo, sono trepidante, sono pieno di emozioni, ma c'è anche la gioia di poter fare bene, di poter servire il Signore con l'aiuto che Lui mi darà e anche con la collaborazione di tante persone valide che lavorano appunto all'interno dell'Azione Cattolica. Don Alessandro, oggi perché un giovane dovrebbe cercare Dio? Eh, questa è una bella domanda, una domanda da un milione di dollari. Dovrebbe cercare Dio perché Dio è il senso della nostra esistenza, è la pienezza, la realizzazione piena e totale dell'uomo. Oggi i giovani sono comunque alla ricerca di qualcosa, di qualcosa anche di profondo. C'è nei giovani una profonda ricerca, magari non conoscono il nome di cosa cercano, ma quando cercano il bene, quando cercano la felicità, quando cercano di fare più bello, più umano e più giusto questo mondo sicuramente stanno cercando Dio pur non sapendolo. Noi da cristiani, preti, laici, testimoni, dobbiamo aiutare i giovani in questa ricerca e a indirizzarli quindi verso Dio. Perché la loro ricerca ha un nome, quello che cercano ha sicuramente un nome e questo nome è Dio, che lo sappiano o no. Oggi la Chiesa con quale linguaggio parla i giovani e con quale verità? La Chiesa deve utilizzare un linguaggio che sia incarnato, che sia vicino anche alle nuove generazioni. La Chiesa ultimamente ha celebrato proprio un sinodo sui giovani, cioè una riunione dei vescovi che cercano appunto di avvicinarsi alle problematiche dei giovani, di capire appunto i giovani, di aiutarli anche in un cammino di senso, di fede. Quindi un linguaggio che sia vicino a loro, un linguaggio incarnato. Il nostro vescovo utilizza per esempio il registro comunicativo della Pop Theology, che è questo modo di annunciare il Vangelo attraverso le canzoni pop. E può essere anche un modo. Io dico che tutto quello che c'è nel mondo è buono, è valido, può diventare uno strumento per avvicinare al Signore. D'altra parte noi non possiamo disattendere il nostro impegno di essere testimoni, e quindi come parliamo? Parliamo più che con le parole, con la vita. Gesù più che le parole testimoniava il Padre con i gesti, con la vita. Quindi anche noi dovremmo essere testimoni in questo senso. Meno parole, più fatti, più concretezza, per annunciare la vita bella e buona del Vangelo. Grazie. Grazie a te. Ringrazio Don Alessandro Paolino, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.